Per la prima volta abbiamo presentato una collezione Haute Couture che vuole essere il trionfo di tutto lo spirito sartoriale che caratterizza il nostro marchio. All'interno di questa collezione abbiamo messo dei capi particolarmente preziosi che verranno anche venduti su appuntamento presso i nostri showroom e le nostre flagship store di tutto il mondo. L'ispirazione è un concetto che noi chiamiamo Inside Out, riflettere proprio sul concetto profondo di lingerie e permettere in vista ciò che di solito è nascosto. La strategia dell'azienda si sta direzionando sulla creazione di capi che non sono solamente di lingerie o beachwear ma possono essere un punto forte di un abbigliamento da cocktail o da sera. La collezione Autunno Inverno 2015 è fortemente legata alla collezione Atelier, ne ha preso i punti forti e poi li ha sviluppati in una collezione più ampia. Uno di questi è il recupero di un motivo primi novecento, noi lo chiamiamo il pizzo impossibile, che è stato realizzato su pizzo per la collezione Atelier e su tulle per invece la collezione Autunno Inverno. Un motivo estremamente sofisticato, floreale, che poi abbiamo abbinato ai tessuti tecnici come il neoprene per fare delle creazioni che sono veramente nel territorio in equilibrio tra la lingerie e l'abbigliamento. Un altro caposaldo è il Regi Calze, che è un nostro punto forte in questa collezione, che è effettivamente cosparsa di Regi Calze ovunque e ne abbiamo approfittato per lanciare una nuova collezione di calze Conland, Legwear, con delle proposte particolarmente sofisticate. E ancora anche le nuove evoluzioni della nostra collezione Icona, che è la Perla Maison, e questa sia nella collezione Atelier che nell'altra collezione ne presentiamo delle evoluzioni speciali, ad esempio ricamate di cristalli, di piume e di filo d'oro. Grazie